Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Falcredere. Dobbiamo oggi salvare il drogato Oliver, il cosiddetto Oliver Twist. E' troppo tardi, la prossima tappa è il centro-littico. Stanno portando Oliver a un elicottero. Devo trovare una buona posizione prima dello scambio. Vaffanculo! Cazzo! Drago del comodo, vaffanculo! Senti, vaffanculo, ecco. Ci affrettiamo! Il pilota, il pilota Jason Brodino sta affrontando il sopio temibile. Incubo! Incubo perché investe un granto di bufali impazziti! E' incubo perché, pochè, 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 pochè! Oh, cazzo, 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 cazzo! Sono troppo deficiente! Sono troppo deficiente! Sono troppo deficiente! 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 Ok, siamo arrivati. Tutta questa musica... Infatti, dov'è Oliver Twist con nonno? Meglio aspettare di vederlo! Ma dov'è? Attenzione! Il VIP Oliver Twist, il drogato, cosiddetto drogato, sta scendendo dall'elicottero proprio adesso. Se volete avere autografi, pregate di non rompere il cacchio. Il cazzo, voglio dire. Grazie. Intanto vedo dei barili. Ecco, un sacco di bastarsi, insomma. Mi sa che questo è un pezzo col cecchino. Ah, eccolo! Schattiamo foto! Spara al momento giusto. Lasciatelo stare. No, per me può pure bastare. Cioè, per me... Potete anche... Diciamo... Si picchiano Oliver Twist. Picchiano, fa cagare il suo libro. Fa schifo. Sei un pezzente di merda, brutto drogato. Eh, vuoi drogarti? Da dove l'ho preso sto coso? Olly non deve salire sulle... BOOM! Corri Olly, forza! Eeeh, se si vedi? Attenzione, il cecchino! Jason Brodino! Do cazzo! Oliver! Amico! Di mamma! Spero che avviate dei pannoloni, perché qua vi cacherete addosso, anche vi piscerete. Lo vedo! È lì! Tiè. Ma fermati, fermati! Hai rotto il cazzo, amico! Eh beh. Senti, se ti sparo... Oh, cazzo! Scusate, regà. Ma io l'ho fatto apposta solo per farmi una risata e basta. Che coglione. Mi stavo troppo sul cazzo alla fine dello sparato. Ma che coglione che sono. Ma che cazzo faccio? Olli non deve salire sull'elicottero. Precisione da... Da un ufflo. Corri, Olli! Sì, ciao, amico. Amico! Mi scappi! Ma come? Muori. Ok. Ok, naia. Senti, un proiettile col tuo nome è in culo proprio. Ma cosa? Ma che cazzo? Quanti siete? Non fermarti! Facciamo le foto. Dai! Il tempo scorre. Dai, cacchio. Certo, Oliver. Oliver, stai sparando alle mosche oppure stai sparando ai pirati? Minchia. Dai, ricarica il tuo handicappato. No! Ma che ho fatto di male! Non fermarti! Eh! 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 Vai soldato! Vai soldato! Vai soldato! Vai soldato! Eh, bravo. Era scivolata. No! Ma che... Che... Come ho fatto? No! E dai! Per una volta! E sparagli! Ma dai, staccando a te! Che cazzo! Ma che pirla! Ma che pirla! Ficcatelo nel culo questo bigliettile. Questo è per non avermi fatto copiare! Cazzo! Mi sento, amico. Hai rotto il cazzo, va? Tu? Mori. Non t'odio questa infezione. Cazzo! Dai! Rincoglionito! Se no ti sparo in culo! Ah, sì? Io aspetto che... Fotti la barca! Che cazzo c'è? Oliver, qui! Che è successo? Buttati a morbido! E dai! Mi hai salvato! Che tatuaggi? Sì, lo so! Vaffanculo, Oliver! Sei frocio pure! Cioè... Sei drogato e frocio! E si è barca! Bravo, bambino! A individuare gli oggetti adesso! E dai, amico! A me non tu sei... Sarai meglio di lì! No, aspetta, amico! Se vuoi restare qui a drogarti con questi pirati... ...del cazzo! E vai, affonda! Nessuno può scampare al mitra! Oh, yes! Bella, amici! Bella! Ma va, fa culo! Lo so che è una barca, eh! Ah, volevi dire macchina! Pick up! Up! Ti se ne frega, mo ti sparo nel sedere! Anzi, in testa! Così muori! Muori, stronzi! E dai, ma quanti siete? Minchia, sembra che... ...peggio della guerra mondiale! Cioè, della seconda guerra mondiale! Mamma mia, oh! Ma dov'è Oliver? Ma che... No, mo' ci manca l'elicottero alla festa! L'ho visto! Un elicottero! Stiamo scherzando! Precipita! ahahah precipita l'elicottero cazzo successo è fatta la cacca mi hai salvato stavano minacciando mio padre avrebbe sborsato un sacco di soldi ti avrebbero venduto come schiavo dopo anche se avesse pagato questo è proprio una storia di merda non so se mi scusano ti conosco sei più forte di quel che pensi vieni con me ho un luogo sicuro per nasconderti drogato salvato signore non toccate il mio fatto un infatti l'in e dai che palle stifili ho trovato ho ragazzi svegli che bello vederti lo sono fatto come un cammello la serra va a fuoco e te lo credo te sei fumato 50 cannoni che hai dal questo è talmente fumato che ha incendiato la casa infatti è fatto un attimo e ma questo è il paradiso cosa la frega devo mostrarti una cosa davvero anche io ho una cosa da farti vedere vieni bello ma chi se ne frega vabbè capisco grant che è morto però che cazzo parleremo ma non ora che cazzo sto rail se gli succedesse qualcosa mi manchi ok e ti porto in giro tutte quelle armi e hai quei tatuaggi strani e dico che non devi salvarli e sono solo preoccupata stai cambiando lisa tranquilla per la prima volta ho il controllo della mia lo so hai ragione ci abbiamo lavorato tanto e ho un lavoro nello studio che ti aspetta di progett non voglio parlare dei tuoi ex adesso questa è la mia vita giusto ho capito se è stressato ne parliamo dopo ti amo brava e ora vai prima che ti do una testata che ti faccio volare una testata nucleare sul serio alleluia va bene usciamo ma poi concludiamo concludiamo bene very nice bene siamo usciti adesso Oliver Cashwell willis sei tu ho trovato il tuo amico Kit Ratsey l'ha comprato un killer che lavora per OIT il solito è al bar nella baraccopoli come si chiama? Buck va bene si chiama Buck ed è venuto per fuori vabbè bene ragazzi il video si finisce qui spero il video vi sia piaciuto questa volta ho fatto un po' di più battute per fare PSP spito vabbè comunque ci vediamo al prossimo episodio con Buck arrivederci ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti